Un presidente volto a una continua campagna elettorale, utilizza la presidenza della regione Abruzzo per rispondere ad attivare un confronto politico tra il suo partito e il governo nazionale. Faccia il presidente per gli abruzzesi, non può utilizzare un'intera estate per l'aumento per quanto riguarda gli stipendi ai direttori delle Asle, piuttosto che ai direttori dirigenti o per il debito fuori bilancio. Si deve occupare della crisi qui in Abruzzo per quanto riguarda l'emergenza Covid, evitando di fare queste inutili passerelle e per dare le risposte al mondo dell'economia che attendono le risorse tanto annunciate e propagandate del cura Abruzzo 1 e 2. Non si può essere rapidi per il debito fuori bilancio per quanto riguarda il Napoli e lentissimi per quanto riguarda le partite IVA, i cittadini, le famiglie e le imprese. Rapidi per la propaganda e lentissimi nel dare le risposte adeguate alla pandemia. Noi chiediamo al presidente di occuparsi dell'Abruzzo e di smetterla con questa propaganda.